Borse europee contrastate in questo inizio di settimana, la migliore è Francoforte che avanza dello 0,69%, bene anche Londra sopra dello 0,48%, mentre Parigi guadagna lo 0,54%. In Rosso Madrid la peggiore che perde lo 0,78%, anche Milano viaggia sotto la parità, ma questa volta per ragioni tecniche. La giornata è stata infatti caratterizzata dal rilascio dei dividendi da parte di oltre 20 tra le maggiori società, con la relativa perdita di valore del titolo al netto della cedola staccata. Il Fuzzimib verso il finale di seduta ha comunque limitato i danni, chiudendo sopra i minimi a meno 0,56%. In evidenza STMicro e Prismian, le peggiori sono Snam e Atlantia, bene lo spread BTP Bunda sestatosi sopra i 250 punti base.